Le parole di Ornella Vanoni risuonano come un tuono nell'aria, creando un'ondata di clamore e sorpresa. Quando si tratta di Lucio Ardenzi, il suo ex marito, con il quale ha condiviso una parte significativa della sua vita, il tono si fa diretto e tagliente. Lui non l'ho mai amato. Un'affermazione che ha il potere di scatenare un vortice di domande e scioccare chiunque l'ascolti. Ma cosa l'ha spinta a compiere un passo così importante come il matrimonio? Con un sospiro profondo, rivela. Perché pensavo che prima o poi ci si deve sposare. Avevo avuto la tisi. Subito dopo Streller. Ma non me l'ha attaccata lui. Sia chiaro. Un'illuminazione. Una riflessione profonda su come la vita a volte ci costringa a scegliere strade che non avremmo mai immaginato. I suoi pensieri la trasportano indietro nel tempo. Ha un periodo ricco di ricordi. Ero vissuta per un anno e mezzo in montagna, vicino a Sestriere, con due cani. Un lupo e un cocker. Un bel periodo. Tornai che ero un fiore. Ma avevo bisogno di affetto, di abbracci. Quelle parole, sussurrate, con una certa malinconia, evocano immagini di tranquillità e libertà, ma anche di una profonda vulnerabilità. Una vulnerabilità che l'ha portata a prendere decisioni che riflettono il suo desiderio di connessione e amore. Ma l'intervista non si limita a spazi intimi e ricordi nostalgici. Si tuffa anche nel tumultuoso mare della politica italiana, dove le opinioni di Ornella si rivelano sorprendenti, quasi dissacranti. Quando le viene chiesto un parere su Giorgia Meloni, l'attuale leader del governo, non si tira indietro. Con una certa franchezza, commenta, piccola, carina, preparata, fa politica con la fiamma da quando era ragazzina. Ma non è riuscita a crearsi una squadra di livello. Una valutazione che, pur essendo priva di malizia, colpisce per la sua onestà disarmante. Ma il vero colpo di scena arriva quando le viene chiesta un'opinione su Alice Klein. In quel momento, Ornella non le risparmia nulla, non è preparata. E mi dispiace. A sinistra non avevano una donna con più corpo. Più sapienza. Più cultura politica. Le sue parole si fanno quasi pesanti, cariche di delusione e la sinistra ce l'ha messa tutta a far votare la destra. Si sono davvero applicati. Affonda il colpo, con una critica feroce, lasciando risonare la sua frustrazione. In un mondo dove le figure politiche lottano per affermarsi, e dove la giustizia sociale si fa sempre più complessa, le parole di Ornella Vanoni risuonano come un campanello d'allarme. Un invito a riflettere sulla direzione della politica italiana. La sua voce, carica di esperienza e di passione, diventa un faro per chi è in cerca di autenticità e di verità, facendosi che le sue affermazioni non possano essere ignorate. Così, tra amori, scelte e pensieri pungenti sulla società, la vita di Ornella continua ad evolversi. Un racconto che si fa sempre più intrigante.